Andiamo a fare un altro, 7-1, 7-1 Nooo, me l'ha levata così Primo trofeo di Mr. Tocco ragazzi La Coppa de Spagna Alla fine il Real Madrid ha vinto Non fanno i pari punti col Barcellona Ma bro, 4 punti de merda che abbiamo super trovato In maniere completamente da rincoglioniti Perché simulo le parti... Sì, però vabbè Calcio Perché lo amiamio? Eh, questo qua purtroppo va comprato a 40 milioni Cambia Sevedo Eh, non ci conviene, regà Sevedo forse è meglio venderlo singolarmente, no? Ma poi a Sevedo sarebbe la seconda squadra Vorrei tenere Boh Ah sì, secondo me Julian potrebbe essere tipo il migliore Vorrei vedere quanto mi chiedono Ok Bro Ma che faccio non cazzo? Come faccio a non cassa? Prendiamo un terzino sinistro diverso che sarà sicuramente più scarso Frate Cioè, se questo lo fiondi a 100-100-100-150 milioni Ma che scherzi Ma lo scambio? No, non ci conviene lo scambio Porca puttana, capo Bello saliva Mamma mia, fenomenale No, vabbè Ma io rinegozio, frate Ma pure se è un caso Gli rimbocchi Cioè, se imbocco con... Ma 170 mi pare eccessivo 166 127 con la rivendita Io rimuovo la rivendita Però ti vengo incontro O io a 150 Regà, chiudo Regà, cazzo Chiudo a 150 Io chiudo e si abbracciano Regà, cioè Voglio dire Voglio dire Ma è che... Come fai a non vendere Un terzino sinistro A 158 milioni? Come fai? Dai, bro, dai, cioè Come, come cazzo fai? 157 milioni e 300 mila euro Fabiano Parisi Soppi 2.0 È il soppi della scorsa timeline È vero? Dai, regà Ma so troppi i soldi Cioè, non c'ha il minimo senso, zi Riccardo Bevi Più 14 milioni Per Oilund Tratta Ti muovi scambio giocatore Io per Oilund Voglio 50 milioni Oh, non li voglio Sti player de' merda Ma chi è Dion Drenabelgio? Vaffanculo Sto rincoglioni Sto sta società de' clown Oh, se me do 17 milioni Ho preso a parametro zero Ma intanto questo Da gava 12 In caso dovrei prendere Un'altra riserva Aspetta un attimo Vediamo se si può fare biscottone Vedete se ci abbiamo Un'altra riserva A parametro zero Che sostituì se me do Fredericks Non era male, mi ricordo 75 Cazzo se me do È stato Top A parametro zero 79 rated Pulito Chi è questo? Secondo me Sono fake Quelle robe Te vedano Oh, si di ve Da una vita che non lo vedevo Vabbè, mi fa tutto schifo Senti, fa una cosa Ada 89 Ansia de Boer Cazzo ce ne frega Perfetto E piamolo Turnover capo Sììe Va bene Due anni Accetto Quanto è che voleva Ma ha detto Vabbè, dagli 35 Che è quello che piavo Se vuoi sbagliar Perfetto E mo Trattiamo Dammi sorti Fa Fammi vedere un attimo che c'hai Asensio pulito Eh Isaac Mezzo io Reciuccia Bello Botman Bro sei il Newcastle Voglio 26 milioni e mezzo Guarda scendo solo per te 21 e mezzo Solidissimo ragazzi Solidissimo No per l'istri Non lo voglio vendere Fammi vedere un attimo Appena parte Parisi Adeboer è arrivato Parisi ceduto 157 milioni Grazie Parisi Parisi grazie Come migliore offerta possibile 180 Ma di che Infatti ma ne è vero 23 e 8 Vabbè 21 e mezzo S'abbracciamosi Cazzo ci prega Adesso Quanti soldi ci abbiamo 223 Allora E qui la situazione cambia Degli ami costa 47 milioni Quindi me sai che è buono eh No che imbappesse D'embriachi Ma questo sta in scadenza di contratto Lo sai infatti Gakpo come call Mi era pure piaciuta Gakpo esotico Cosa di Gakpo Esotico lui eh 87 rated 25 anni E a ti eh Sì bisognerebbe cambiarlo lui eh Bro Julian Alvarez Però per ora a me Per me resta quello più Quello più plausibile Vi piace a voi Giuliano? A me piace una cifra 84 E boh no 84 e costa pure sui 60 Cioè secondo me se offriamo 65 Non può romper il cazzo Capito? Fai 63 63 e mezzo A guardiò Bro è top 64 e mezzo È top Però prendere un altro Che senso c'ha? Intanto c'ho Cristiano Come secondo Puro Penda era carino eh Penda però il fatto è che C'ha 3-3 Cioè Penda all'inizio sarà un trimone Noi toccherebbe Cambia modulo Però cambia modulo Che vuol dire A me cambia un attimo la roba Allora io faccio una seconda squadra A cazzo Ma non la voglio usare La seconda squadra Io voglio fare Voglio fare un turnover Dei 5-6 giocatori Perché non c'è Vranx? Ah no Vranx va de là Porco Agumet Pellistribinoe Molto pulito Pellistribinoe One se be bamba A Deboer pulito Cardona va bene A Sevedon porta Oilund Alla fine Se ci pensate Manca un trequartista Che in realtà ce l'abbiamo Ma è una merda Che è Bischoff Questo dovrebbe andare via in prestito Ovviamente tocca comprare un terzino sinistro Aspetta Abbiamo un terzino sinistro Terzino sinistro Primo Grimaldo Ma ormai è vecchio Frimpong non è a destra? Oh In scadenza Tierney Tierney è un bella goal Kieran Tierney Però 27 anni Meh Guarda che tanto potrei Questa è l'ultima stagione Regà è ufficiale Questa è l'ultima stagione No Dodge già ce l'ho avuto ragazzi Già ce l'ho avuto Nella Ciglior Non si può fare Non si può fare E So PTS Eh ma dobbiamo vedere quanto ci mette 5 è debole Eh però Frimpong Quanto ho paghi Io È in scadenza De contratto Con quanto gli imbocco Secondo me c'è sputa in un occhio Se imbocco così Eh è tosta Perché quelli lì Vogliono una cifra di sordi Comunque Cioè Comunque 70 milioni Per in terzino Cioè Io di solito li vendo I terzini Non li compro così forti Se noi ce l'avevo messo come terzino C'avevo Ranch Così Tanto 8 Carecats Carecats 10 meno dei rating In confronto a coso In confronto a Parisi venduto Se può fare Ma un bel terzino Sinistro Svincolato Ignorante Se sa mai Che la vita Ti regala qualcosa Che è sto fenomeno Ah questo è Jesus Navas Forse No è TD Navas Forse è Jordi Alba Quello Mario Rui Ma Mendy è brutto Regà 29 anni È vecchio Prova a ricomprate Parisi Lo prendo a 100 A 120 Ve lo prendo E guadagno 30 milioni Torco zio No Baldeggia ce l'ho avuto Brother Krastev Non esiste Zinchenko Sdrogo Malacia Malogusto No Eh Dalò pure carino eh Bella goal Dalò Bello A Real Madrid Oh Oh sai che Dalò Marrava Non ce l'ho mai avuto 60 milioni però Stiamo a parlare di denari Solidi Malasia Vanno 40 50 milioni Vabbè se Arrega Sentite una cosa Julian Alvarez Cruciale 5 anni No clausola Da quanti sordi Più a questo Secondo voi Se gli imbocco Con 150 secchi Mi rompe il cazzo Così ha accettato Vabbè Quindi voi mi è stata di malo gusto eh Vabbè facciamo passare un po' dei giorni Allora nel frattempo Alvarez Assolutamente titolare Fate boer Sti cazzi In attimo Vranx Titolare Certo che c'è more Centrocampo Che è un po' di laboratorio Se mi permetti eh Se mi permetti Il centrocampo nostro Ragazzi è un po' di laboratorio Cioè Musa da me va pure bene Gioca pure bene Vranx però Secondo me Upgradabile Come dobbiamo Secondo me dobbiamo Upgradare pure gli oro Mamme fai vedere uno Fammo vedere 81 rete Renatino Sanchez Bello arrogante No duramme no No duramme no Guendosi Eh guendosi è carino eh Bello Ah bro non me guardo indietro L'ho preso No bro Scadenza di contratto Questa è da piano subito Secco Gli imbocchi 40 40 40 13 Vai 43 43 Milioni Von Noilund Nah Fermo sempre Andiamo un po' a salire Ma andiamo Facciamo 44 e mezzo 43 47 Più 5% De clausola Io voglio spillare Gli ultimi 2 milioni Rega sono un t-rex Porco dio No dite che me piscia Me piscia Da 49 accetta bro Accetto Vabbè 50 51 milioni Per un 85 25enne Tanta roba Da moglie 60 Mila Non è che vuole più sordi Giungi il bonus Va bene Ok 104 mila euro Simbolici Li ricevono sempre I nuovi giocatori Pulito 86 86 No 85 Ha rincoglionito Ok Bello Bello Ok Fiamo un attimo due schede Cioè due Due allenamenti boni Allora Giuliano Fa arsa ste skill La velocità Vai a fa a cagare Bischoff Prestito bro Cici 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 Due Tre Quattro No uno in più fa comodo Lascia perrone Fida te Guendo si Piano crescita Aumentiamo ieri Debole Vai Effettivamente essendo l'ultimo anno Si potrebbe vende Ma deboere lo posso mettere Terzino destro Prende qualche app Due settimane Io lo do Ok Oilund Vabbè Due portieri necessari Sì anche perché uno L'abbiamo perso Avanziamo un attimo No Bistec Non lo vendo L'ho venduto Perfetto Lo sai che mi sa che Simagan È tosto Tuanzi ebbe Sei milioni Venni sto coglione Tanto mondicci Mo sto a comprare Sono sordi Sette e due Sette e due La porte Però Vabbè Ma lo sai che stai a fare Delle colle simpatiche La porte è simpatica Come colle 30 anni Vabbè sti cazzi Solita come colle La porte Ma c'abbiamo pure Windal Oh dobbiamo comprare Terzino Regà Serve un attimo De giorni Ok Tuanzi abbiamo Venduto Ma perché però I Lundern Stanno a fare Tutte ste offerte De merda Dove mi offrono Dei giocatori Stupidi dentro Ma che squadra C'ha questo Ma chi so Sti bot Porco Dio Ho trollato Dove vedo Quanti soldi Potevo prendere Oh regà Ho trollato Perché si è alzato Ma regà Perché è andata 81 Regà Vabbè sti cazzi Ma che me frega Vaffanculo A Oilund Sto coglione D'accordo per il prestito Vai vedelo Donna col umanini 100 milioni Al Barcellona Olè Il Barcellona diventa Sempre più forte Ardaculerra 91 milioni Ah Difiuta Ora vediamo chi pia Fammi vedere un attimo Mi serve un attimo Da vedere Quelli che abbiamo messo Nell'occhio Vediamo quanti soldi Potevo chiedere Dai potevo andare a peggio Solo non si stava A lamentare Comunque la porta Costa 78 milioni Porco diaz Io questo voglio vedere Oh ma quanto ci mette Questo Andà a vedermelo Io voglio Piame malo gusto C'è di provo Con Frimpong 70 pappi cash Qui Allora regà Se ci pensi È una ravina bro C'è letteralmente Una ravina Abbiamo venduto Un terzino 87 Più vecchio Di Frimpong A 160 milioni E ne stava A comprare uno Della stessa valutazione Più giovane A 72 Ah regà Ah no Stessa età Me sa Boh No 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 C'ha 25 anni Parisi nella carriera mia Oh No nega la clausola I sordi Ecco qua Che c'è il problema I sordi 80 milioni Sono tanti bro Nell'hub Diceva 23 Ma allora Mi sa che ho controllato io Ma Mi sa che Mi sa che C'hanno la stessa età Però vabbè World no Cioè pulito Come trasferimento Cazzo Super solito 70k Vanno bene Eh ma se Mi sa Tasta trattativa Bestemmio Bonus 604 Molto bene Questo è tosto eh Questo è clamoroso Regà Allora Abbrosa Intanto diamo il cambio ruolo A soppì Cazzo E dammo pure Diamo anche terzino destro No What the fuck Lasciamolo Ada Perché ne è che ci abbiamo Molte alternative Ah ok Ah vabbè Ma gioca Ada Ma che cazzo Ce frega Che cazzo Ce frega Ok Regà per me è l'ultimo acquisto da fare in difensore centrale Poi il resto Donde me c'è stamo Mi devono entrare ancora i sordi di Oilund Dove stanno i sordi di Oilund Ah oh Ah ecco lì Eccolo Ma chi è quello Eh oh Dove stanno i sordi di Oilund Ma come sono già entrati Ma non è possibile Cazzo avevo finito i sordi Avevo Bamba 8 milioni Ma questo quanto ho pagato io Mi sono scordato completamente E chi pio in difesa La croatite che è una merda La scadenza Eh saliba costa 80-90 milioni Non ce la faccio Bello sì ma canna oh Bello vero sì ma canna Sì ma Quanto costa Costa un bordello Magari con 45 Gli puoi addirizzare un po' l'uccello 44 Perfetto Battà a piang del culo Te sto coglione Eh fratella port costa troppo Non ce la sordi Van Dyck Ma che sto a scrivere Bello a kanji 30 anni Ma me lo ricordavo più giovane Però a kanji mica brutto no Mi auguro che è 29 anni 81 Bremer Non ce la faccio regà Mi serve un po' di meno Cioè deve stare sui 40-50 milioni Perché se no sto fuori Se no sto out Van Dyck Dimmi che sei milanista Senza dirmi che sei milanista Ciao e tu mori come consigli No regà saliba No è imprendibile Regà c'ha tipo 88 86 83 milioni costa Autorres Eh Ma regà Tapsubba per me è quello più carino Bello Tapsubba Mi piace Provamoci Dunque vogliono una barca De sordi eh Vediamo se riesco a fagliare così Così ne è brutta eh 50 con 10 regà Ma è troppo Sì Porco Dio 52 e mezzo Cioè è 83 rated bro Cioè 83 50 milioni E dirta Oh ma invece Un cazzo Eh non è Non c'ha valutazione Un cazzo Kim Ma che si chiama Kim Kim Min Mi è entrato un attimo Un pappa il cervello Oh scadenza Però non c'ha valutazione Aspetta che Kim Scadenza potrebbe essere serio Ah Eh la mia seconda squadra Ha giocato bene Regà Sì Diogo Giada Più 70 milioni Pe Alberto Moreilo Moreilo Moleiro Ah affanculo va Non incoglionete Però ma lo sai che 23 milioni Regà Se potrebbe fare la mossa La mossa del ninja Ci serve però un portiere Un portiere svincolato Onesto Capito Va bene pure tipo sul 76 77 Cazzo ci frega Eh però porco Dio A me questa roba Mi dirta di ocane Cazzo ma fate la ricerca Dove posso continuare a scendere No No La ricerca è limitata Give me the fucking ball Give me the fucking ball Meglio Meglio Perfetto No ma da un'altra sola Regà Porco Dio posso Chiedere 30 milioni Gli ne chiedo 40 Dai state in balla E dammi 33 milioni e mezzo E che sarà mai Belli Belli Ma chi invece manna Oh No no aspetta Devo prendere Keylor La porte Volete sto cazzo di la porta Ma a sto punto non è più bello A sto punto non è più bello Quell'altro Allora Keylor Navas Turnover Cruciale Clueless Certo Sicuramente Accetto due anni Ignoro la clausola E ti do i tuoi denari Benvenuto a bordo caro Mi hai fatto guadagna 30 milioni Allora bro no Cioè no La porta non c'ha senso A sto punto è meglio Pau Torres Oppure Bravi Quello del Benfica Antonio Silva Ehm Andiamo un po' avanti Beh con sta cazzata qua appena letto Vado a piacare la coca cola Regà Andatevi un secondo Allora Ah fammi vedere quanto costa Pau Torres Scusa Porca madonna Ma questi sono una fracca di denari Vabbè uno ce prova dai Che dite con quanto gli imbocco 72 e mezzo 10% dei clausola 11% dei clausola di rivendita Vanno una piotta Beh ma una piotta regà Ma quando gli ha Ma come faccio a dargli una piotta a questi Io Ma chi c'è là Eh al massimo te posso da boh Fai 86 milioni Vemmi incontro Cazzo ne so 86 milioni mi farono puliti Perché comunque Un 86 27enne pulito 91 Eh porco dio buono La porta a 30 anni e chiedono meno Ok ma è un malus Il fatto che abbia 30 anni Non un plus Eh ho capito che lo pago meno Però A che cazzo mi servono sti sordi regà Io penso che una volta comprato Una volta comprato Pau Torres O chiunque Cioè Penso che questo sia l'ultimo L'ultimo acquisto Oh C'è C'è Né moglie Lo sai che forse Kim Regà Quanti sordi Quanti sordi vanno per la porta Gli in bocca Gli do 70 steak La porta a 30 anni e chiedono meno Vanno de meno 80 10% Un milione de meno Un milione de meno Vanno Frate Ma chi sono un culo Oh ma esso è umati 84 milioni per in trentenne Oddio gusto quanto costava San paro dei giorni così per il meme Questo non vedelo ora Porco oddio Ma poi trequartista di riserva Ma che ce faccio io Ho il trequartista di riserva Regà non ci faccio un cazzo Perché tanto io riserve uso sempre Pinò e Pellistri Perché tanto c'ho tutta la difesa mia che Regà ma sbagliò Ah no perché lo devo comprare Dici Giusto me mi mancava qualcosa Effettivamente Vedi Kim Eh ma Kim Fratello Me dicono un cazzo Mannaggia la sacra sindonaccia Bastarda maledetta 8 settimane porco oddio 8 settimane Come faccio un boccaio a caso Beh la porta però sono troppi sordi bro fish Offere più scarso e te dicono il pre Ma non c'ho scherzo C'ho tre giocatori Trattativa sfumata Sti cazzi Vabbè lo sai che te dico Il carciomercato finimo Quando è Ho finimo domani E Mo se fa la prima partita E poi andiamo su Spiderman Voglio provare Alvarez Voglio provare i sostituti Voglio provare Guendosi Frimpong Uno squadrone eh Guarda che sta squadra La provincia la Champions League eh Chi è Chi è Football Nooo Quella merda di Oblak Uler Se la porta sul sinistro La bomba E Oblak Regà io non vedo l'ora che esca House Flipper 2 Ho letto ieri un commento di un ragazzo Che non vede l'ora che Che escano nuove robe così Porco tu non vedo l'ora che giocacce io Mamma mia quanto è stata bella la demo Di House Flipper 2 Oh che fa Griezmann No regà di rigore Ma ma svili Oh eh tagliatevi le braccia però Regà ma Gio Felix Sbaglio o non c'avevano L'ultima volta che abbiamo sfilato L'Atletico de Madrid Bravo Arda Still no pressure Thank God I breathe Bello Giuliano Goal all'esordio Bravo Giuliano Vabbè ma pure Bernardo Silva Ma come si muove Bravo Guendosi Gira così Pulito Mannalo Bellissimo Volevo sapere se secondo te FC sarà migliore di FIFA 23 Decisamente Guendosi la prova Però io non vedo l'ora di poter Parlar del gioco Cioè c'ho da dire peggio cazzate Voi non avete capito io Che sto a fare sul gioco Su FC Cioè io sto a fare panico Regà io non posso parlare del gioco Ma io mi posso dire Che io ho perso Ne avrò giocato Bravo Giuliano No Avrò giocato una cinquantina di partite Su FC Ne ho persa una Quendosi C'ha spazio La bomba Oh Black Tapparà tutto Per vedere da fan cambio Via Guler Simons centrale Binoi entra E Vranks al posto di Musa Che Musa oggi è del laboratorio Porco Dio eh No Ma come indica che fai dribbling Oh Ma regà ma sto Black Non si può superare Cioè voglio dire In finish verde O blocca lui Mai visto un tiro bloccato Quest'anno su FIFA Lui li blocca Hai Pau Torres Hai Mancini Mancini Bravo Mancini Eccolo Julian Bravissimo Mancini Cuore giallorosso Grande Mancio Come Codo Doppietta di Giuliano Bravo Julian Cazzo Bravo Bravo Julian Allora F Ecco lo cambio Eccolo Me la manco male Beccatevi il calendario Barcellona Real Madrid Lazio agli ottavi De finale De Champions League La Coppa de Spagna Contro Real Sociedad Osimène Vinicius Gravenberg Darder Valverde Ciulciameni Mendiak Angi Orban Masra Vigurto Vincere contro Real Madrid Porco Dio